Ciao a tutti e oggi siamo su minecraft non l'ho mai portato qui sul canale infatti è la prima volta non ci gioco tanto infatti non ci gioco tanto e non ci gioco da tanto non mi ricordo bene dove dove andare bene bene allora io cerco sempre una skywars anche se non penso che ci sia comunque puntiamo per una bedwars una bedwars, su, basta ok mi sono molto esperto infatti ci ho messo un po' a entrare in questo gioco cioè ci ho messo un po' a proprio entrare in minecraft ok allora che cosa si gioca nelle casse non c'è niente qui si mi vende gli oggetti ok ne erano come bus di ferro e... ok allora come è una cosa direi mmmm no direi che non ho comprato ancora niente però mi serve qualcosa sento qualcuno arrivare non so se non so è è quello che mi vede tutto spero che non sia il mio il risultato che io questi giochi non si è proprio pratico infatti minecraft è sempre il secondo dei miei giochi preferiti non ci ho mai sembrato a giocare alla perfezione quindi scusate se non non vincerò oppure non vincerò subito quello mi fa paura, che dovrei fare? oh, bene quelli stanno scendendo il prossimo caso è uccido, nooo no, sono morto malissimo vabbè dai non fa niente non so se c'è qui c'è il tasto no non posso usarli però faccio un spettacolo quindi non posso usarli ovviamente eh non posso tipo discutere la versione, non lo so va bene dubbio ai casi lo abbia fatto per la quarta non è veramente c'è ok ok facciamo un po' di lobby penso ok quello solo non sono fatte per l'obbio quindi per le dobbio scusatemi anche soprattutto per il rumore che il mio pc dopo 20 minuti viene più più caldo quindi magari dovrò portare più video lo accendo e se li dovete registrare però è difficile che mi venga un po' mi ci venga un po' a calcare 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 un po' per... 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 ci si serve ok il mio amico è già... già potente allora tu ah sei disconnesso certo mi sento solo ma come faccio è difficile ma vabbè combattono allora è meglio non coprire quella bianca ma è meglio quella bianca ma è meglio quella bianca ma è meglio perché si è più resistente ma vabbè questa è ora o è iliana non capisco che sia così mi sembra ora ma questa è la mia classica struttura mi fa zio delle badmonds mmm magari cerchiamo a farli più oh cacchio ok non capisco nessuno ancora che sarebbe una caccia bianca c'è il caso di prendere non lo so upgrades ok 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 ah beh ho fatto tutto quanto diamante non troppo una luce non può dare qualcosa ecco allora vediamo la spada con 7 gold però la nostra priorità è il legno anche se senza spada moriamo ovvero io di solito faccio faccio una struttura con cioè prendo due volte il legno che serve le faccio una struttura che vorrebbe resistente quindi un'ultima una le metterla qua e un'altra le metterla qua ok quindi ora posso anche permettermi di comprare qualcosa tanto ormai il legno l'abbiamo coperto allora un giordo quindi costa 7 abbiamo detto e lì direi di incominciare a fare un pompe veramente da qualche parte prima che si pensi a di tutto questa roba perchè qui è lì il mio avviso fuori c'è no allora non c'è questa rompia niente oh cazzo ok ancora nessuno è da me mi stiamo mettendo qua spero tanto che nessuno è da pusciare ancora perchè comunque non siamo ancora preparati ma comunque io non capisco che su utilità ha la spada di ferro in questo dio perchè fa non 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 è potente è in confronto a come nel minecraft minecraft è meno potente non so perchè poi perchè dai se non la ma 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 va